E siamo tornati, eccoci, su Robin Hood in Ranger of Sherwood, con la missione del risattore delle tasse, che dobbiamo derubare. Soprattutto il Patrick Baker che si va a... Ma cosa volete avvicinarvi? Come ho? Dove? Ha davvero visto? Avrà bisogno di Edward di faccina? Sì, sì. È un ben medicinale. Certo. Vai, Robin! Voi vede, se riesco a fare la stessa cosa dell'antiavonta, che non mi vede, mi piglio tutti i cosi. Vediamo, perché le missioni sono un po'... Beh, 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 beh. Sono quello che sono. Consideralo fatto. Andiamo! Consideralo fatto. Avanti! Cosa c'è laggiù? C'è altro? Tutto fatto, tranne quello che dovevo fare. In guardia! In guardia! No! In guardia! Prima che scappa! Prima che scappi! La! Uno di me! Ruba tutto! Arrivederci! Arrivederci! Eh, ok. Ok, andiamo. Ok, ci siamo. Sarà difficile. Perché qui non deve morire nessuno. Solo qui. Ehm... Questi saranno praticamente come i nostri alleati più avanti, se riusciamo a convincere Sir Ranunf che non siamo nemici, ma non siamo nemici, ma è difficile. Vediamo un po'. Noi possiamo anche solo stordirli e basta, eh. Non è detto che... No! Puzzitto sangue. Pazzo! Vabbè, la donna che è qui... Ah, fanguno... Cosa? Chi? Ti ho visto? All'aria di essere una buona idea. Attendo le vostre consigli. Non ti muovere! Non ti muovere! Non ti muovere! Vieni qui, piccoletto! Desolato, piccoletto. Eccomi! Cazzotto a te! Cosa fa quella stanza da picchia? Non ti muovere! Non ti muovere! Non ti muovere! Difenditi! Assaggia questo! Donne me! Pfff... Ma to! Abbiamo rischiato, eh! Pio, 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 pio. Vieni qui, piccoletto. Ah, fangu! Pa! Cazzotto, subito. Ho in mente il mio piano malefico. Vediamo se lo riesco a mettere... Ma tu pensavo venissero di qua. Qua chi ci sta? Posso tirare un cazzotto adesso, no? Me ne vado subito proprio. Ci mettiamo qua. Ma che va qua questo? Ci parte. Per Robin! Dai Ehi tu Non ti muovere Nessuno se ne ha conto Com'è possibile Comunque sta per morire pure questo Certamente Se tu ti posso rubare i sondi no Non c'è niente Per Riccardo e anche un po' per Robin Ma non diteglielo Vieni qui piccoletto Prendi questo Desolato piccoletto Aio Certamente Ma di cosa hai paura Vieni qui piccoletto Eccoci qua Eeeh Niente Non riusciamo Non ci riusciamo proprio A Sì Vabbè Vediamo di spianco con un altro po' Perfetto Ok Dormi bene Ti ho visto Con karma però Benissimo Perfetto Perfetto Arrivederci Fessacchiotto Non voglio entrare Non voglio entrare Nei edifici C'ho problema che c'è stata gente Quindi non voglio Che bucio Che bucio Non mi vedo mostri strunci Come spostare le montagne No vabbè Non ti inquipa Perfetto Perfetto Non mi si lascerà mai tranquillo Quando volete Ah che bello Vediamoci un po' di questi qua Non ci può fare senza di più Mila grazie Vi rivelerò che Calma Arrivo Oh oh Per Robin Oh ma Vieni qui piccoletto No Siamo tornati Madonna mia Bene Ecco i soldati All'attacco Difenditi Divara No It was at this moment That he knew He fucked up No 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 Abbiamo anche una strada spianata qua Per tornare indietro Anura Siccome Io non so qua Che cazzo succede Io vado con Little John C'è gente? No Che spettacolo Forse qua c'è qualcosa Arrivederci capo Il doomsday book Madò Cosa c'è ancora? Fermo là Mamma Vieni qui piccoletto Prendi questo Ebbene È per una buona causa Chi mi vuole? Perfetto ci siamo Vai Vediamo qua se ci sta qualcosa Da poter prendere in prestito Carne Vabbè Andiamo No non fissi Ho detto cosa è senza È proprio Siete voi Lady Marian Ma che cosa ci fate qui? E chi è questo individuo? Robin D. Loxley Detto Robin Hood Al vostro servizio mio signore Voi qui? Quale impudenza? Chiamate le guardie Aspettate vi prego mio signore Abbiamo tristi novelle da comunicarvi Più tardi disporrete di noi come vorrete E sia Vi ascolto È tutto Il principe Giovanni è dunque un traditore Ecco una notizia che non mi sorprende affatto Da tempo nutrivo dubbi sulla sua onestà Messere Possiamo contare sul vostro sostegno? Certo Ma le forze del principe sono troppo numerose Perché possa sfidarle apertamente Ci serve un altro alleato E non vedo che un signore abbastanza coraggioso da opporsi al principe Godwin Ahimè Egli è scomparso E nessuno sa più nulla di lui La mia gente mi ha riferito in proposito Pare che il principe gli abbia confiscato le terre per donarle a Guy di Gisborne Godwin sarebbe al momento rinchiuso nelle segrete del suo stesso palazzo Non c'è tempo da perdere Andrò a liberarlo Sì E una volta che avremo scacciato Gisborne da Lincoln Potremo organizzare la lotta contro l'usurpatore Ma per il momento evitiamo di attirare i sospetti dello sceriffo Non posso dire ai miei soldati di lasciarvi passare Dovrete andarvene con i vostri mezzi Non preoccupatevi per noi E grazie per il vostro aiuto Un'ultima cosa Alcuni uomini dello sceriffo stanno trascorrendo la notte in questo castello Sembrano incaricati di un qualche trasporto segreto Non ho potuto saperne di più Ma non credo che abbia importanza Capisco Un fuorilegge potrebbe aver seguito il convoglio Ed essersi introdotto nottetempo nel castello Per mettere le mani su questo prezioso oggetto Effettivamente sono cose che accadono con questi briganti Buona fortuna ragazzi Siate prudenti Era questo Doomsday Book qua Ma vabbè Andiamocene Immediatamente Non voglio più Stare in questo Cazzo di posto Ci vorrà un po' prima che le truppe di cannon fusi Anzi no Ma va bene così Mui non vede perché è sordo Cioè Mui non sente perché è sordo Ma dove si esce Ah ok Dobbino Martin Wood Perfetto Martin Wood Bene Ah possiamo andare subito Va bene ragazzi Allora Nel prossimo episodio Noi andremo a liberare Godwin Dal suo stesso palazzo Il video di oggi finisce qua Spero che il video vi sia piaciuto Nel caso vi sia piaciuto Mettete un mi piace E commentate E noi ci vediamo Su un prossimo episodio Di Robi Nude Da Legend of Sherwood Ciao ragazzi